del Ptl, un amico diretto. Grazie, quando mi sono, quando annunciavo la presenza di Stefano, ho pensato, voi vedete che Stefano fa un annuncio in diretta e consente a tutta di ritorno, e quindi è vero che questa cosa resti comunque in qualche modo sullo sconso, sullo scenario di una vicenda comunale che si sento la guarda. Dobbiamo fare ciascuno un po' di mia culpa per quello che è accaduto, dai vestiti del partito ai responsabili locali, perché è stata veramente gettata al vento di montazione. Io discuto con Marco Nostudia che ringrazio per la sua presenza qui in campagna e che fuori dalla sua circostruzione elettorale, essendo rieletto a Roma anche dalla circostruzione dell'Italia centrale. Ma se qui vuol dire che c'è chi fa la politica al di là delle convenienze elettorali, c'è chi fa la politica non solo in colpando i propri dettori, ma anche per riguarda i dettori degli altri, c'è chi fa la politica cercando un po' di rendersi conto di che cosa si fa, di come la si pensa, di come si agisce anche al di fuori dei propri confini elettorali. Quella di Casoria è una storia locale che però ha delle caratteristiche che la rendono uguale o molto simili a tante altre che abbiamo registrato in tutta Italia nell'ultima tornata amministrativa. Qua avevamo un'amministrazione appunto capeggiata da Stefano Ferrara che è caduta per l'imposizione interna, che poi non ha saputo trovare sintesi neanche nel periodo elettorale, quindi attraverso una riproposizione comune e nel cambiato sindaco e rispetto alla polizia. Quindi siamo andati separati. Alla fine ha vinto il centrosista, come era naturale che fosse, anche l'obbligatorio non è una piazza pagina, ho provato a capito, servano senza avere una maggioranza lì per l'imposizione, quindi vince le vostre facce e vince molto similato personale. Naturalmente ha avuto problemi, ma nessuno di noi potrebbe immaginare che il giro di così poco tempo, anche se è stata un'esperienza molto indenso, sia arrivato se vuoi di fatto a consegnare il nuovo con la città marina. Ho sentito gli interventi di Giovanni, di Daniele e naturalmente di Luca. Per fare politica non è necessario internazio. È importante il ruolo. Il ruolo lo si può avere, indipendentemente dal fatto di sedere in un Consiglio Comunale, ma se è travestito, tanto meglio starci. Ma se non ci si sta, si fa politica lo stesso, non è morto nessuno. Si incertano le prevenze per nuove battaglie, per raggiungere nuovi traguardi, per tagliare nuove mete. Io penso che qui esistano, in questo ciclo, in questa comunità, a prescindere anche dalla posizione che sono state prese nelle ultime elezioni amministrative, esistano tutti gli ingredienti e tutte le possibilità per riprendere una battaglia, per ridimentare protagonisti all'interno della comunità, per dire la propria sulle scelte che l'amministrazione andrà a fare, per veicolare quei valori che trovano una particolare sensibilità nelle nostre comunità giovanili, c'è per fare tutto quello che serve a fare politica nel senso alto e nobile del senso. Luca rappresenta, e Luca e tanti altri, rappresenta un'accelerazione che è grande a memoria del pastore Bonsedino, perché come spiegato, sono nati politicamente in questa faccia, hanno avuto consapevolezza di un impegno a seguito di un elemento così brutto, così tragico, così gravido di conseguenze per l'intero mezzo. E' quindi una generazione che è cresciuta all'insegna della, solo del rispetto, ma quasi della sacralizzazione, del tema della legalità, che invece in un paese normale dovrebbe essere una presunzione. Cioè chi fa politica è naturalmente, è naturalmente rispettoso della legalità, perché i parlamentari fanno le leggi. Quindi, se i parlamentari fanno le leggi, significa che dovrebbero essere i primi, la vostra parte è a rispettare. I pubblici amministratori sono quelli che agitano all'interno di un sistema prefigurato viventi e amministrano il denaro pubblico. Quindi si presuppone che colore qua, arrivato ad amministrare la cosa pubblica, lo facciano ad esclusivi interesse dei cittadini che li hanno votati. Questo è quello che accade. Poi, ovunque c'è la commissione, ovunque c'è il malavale, ovunque c'è la commissione tra politica, albalismo e anche cose molto più gravi, ma tutto questo a partire dalla patologia della patologia. C'è invece in Italia un rapporto particolarmente ingangrento, particolarmente malatto e questo naturalmente ha favorito anche la nascita di una generazione che assolutizza per questi valori e gli espone come se fossi una bandiera politica. La legalità non è una bandiera politica, la legalità è una precondizione del fare politico, ma se si vende una bandiera perché evidentemente si rispende bisogno ancora di più che rispetto ad all'alberato. E allora, nelle nostre zone, nella poeta, in campagna, questo è un tema centrale, non viene anche molto semplice. Perché qui vi è una dose industriale di commissione, qui vi è il più alto numero di consigli sommati sciolti a seguito di un'inversione che abbiamo visto. qui vi è una situazione molto labile nella terra del confine tra l'esito e l'esito, quindi qui maggiormente c'è bisogno di una vigilanza alta che è particolarmente potente. Perché è questo? Questo accade oggi, lo dobbiamo dire senza ipocrisia, questo accade oggi più di ieri perché ieri funzionavano meglio i partiti e oggi i partiti non esistono e non è un bene che non esistono. I partiti formati esclusivamente dalle leadership possono funzionare a livello marzionale, ma non funzionano a livello locale. Perché se un camorrista decide di entrare in un battito e quel battito è rappresentato da un leader a livello scoprano, da uno solo, lì non c'è filtro. Nei partiti tradizionali, dove c'erano i bilettini, c'erano gli esecutini, c'erano le sezioni, era più difficile. Queste volte riuscivano lo stesso a regole a fare decattare il vertempo al mondo. Ma oggi la crisi dei partiti è sicuramente un fattore che ha favorito l'infiltrazione della politica. Allora, mi è piaciuto molto l'altro giorno Angelino Alfano, quando al Consiglio Nazionale del Popolo della Libertà ha detto determinare certe paese di ironizzare. Quando Alfano dice che vorrei che il PDL diventasse o fosse il battito degli onesti, è un po' ironizzare. Su questo oggi c'è poco da scherzare, perché mi dobbiamo essere sempre beccato scadendo la prima pietra. Vediamo quello che sta succedendo nel Pd, con le trancette dell'Ena, con questioni che valmiscono persino da lei. Ma forse vediamo, per tornare le cose di carta nostra, quel cagliotto dell'Italia dei Valori, come si chiama, quello barbato, che è stato in patente dell'Ena e poi un piccolo estorsone, che ha insomma una responsabilità, che ha chiesto consulmente per 20.000 euro a quel visione che è diventato accusatore dell'onorevole milanese, per il quale pende una richiesta di arresto. Quindi eviterei di fare la punta del dare della vede rispetto a chi è più o meno. Vi è un obiettivo politico lanciato a fare, che va accolto, raccolto e rispetto al quale bisogna lavorare. E allora quello che è accaduto a Casò è anche frutto di una assenza del quale bisogna, che mi assumo ha promuoto la mia responsabilità, perché altrimenti l'edito sarebbe stato diverso, perché noi siamo andati spaccati in diversi comuni della provincia di Natale, Caporia, Foggio Marino, siamo andati divisi anche in altre parti, a Foglia siamo riusciti a vincere per 45 voti, eppure c'è una nostra amministrazione che pure è la caduta per questioni interna. Allora c'è bisogno di ripensare il passaggio. Il nostro partito è stato per anni identificabile esclusivamente nella figura di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi si ha fatto, vince, Silvio Berlusconi ha risolto i problemi per tutti. Quando era fatto in difficoltà nei sondaggi, passava un'apparizione evitiva di Berlusconi, una grande mobilitazione di piazza per recuperare nei sondaggi, adesso non è più possibile. Adesso bisogna che ognuno si scorsi in avanti e capisci che ognuno deve tirare un po' il carnetto in avanti, perché Berlusconi c'è bisogno di trasformare il partito campanico in un partito presidenzialista, in un partito che decide ma che ascolta, in un partito dove ci si confronta, in un partito dove non esistono i Berlusconi a livello locale, ma esistono i cedi dirigenti, le quarte dirigenti, dove c'è partecipazione al proprio interno, no? Non esistono i partiti, credo stanno i partiti a lato, le cosiddette liste Coca-Cola, di cui abbiamo la confano, ma io molte volte ho visto le liste che assunti, neanche Coca-Cola, non è proprio un marchio, insomma, è una cosa che è successiva. Abbiamo visto proprio listarelle da quattro soldi sponsorizzate in maniera più o meno consapevoli, più o meno valente, da esponenti di primo piano del popolo della libertà. Cioè sono esistite, tutto esistono tante cose che fanno dire a Luca e a tanti giovani, ma a prescindere da chi da dove sarebbe, da quale sarebbe il simbolo. Noi dobbiamo lottare per chi chi viene sia a forza, noi dobbiamo lottare per chi chi viene migliori, perché il popolo della libertà è una grande scommessa, è una grande scommessa che non possiamo accettare gli obiettivi. Il popolo della libertà rappresenta un orizzonte e rappresenta un obiettivo che è stato premiato dal consenso di milioni e milioni di italiani. Non è solo la casa dei moderati, pubblici. È la casa di tanti valori, è la casa di tante culture, è la casa di tanti incredibili, è la casa di tante aspirazioni. È tutto questo, naturalmente. Non può essere cancellato con un tratto di spugna solo perché da chi non lo ha capito, o chi si è adeguato, o chi ha pensato di prendere la sconcia a lui e dire come è fatta l'uscura a livello nazionale così in parcerio a livello locale, perché questo non può esistire. Allora, dobbiamo costruire il partito, non dobbiamo riduire i contenuti, dobbiamo fare in modo che questo sia veramente ammaccato anche di chi giovane si muove in politica. Vedete, io sono stato, all'inizio della legge di statura, un po' più uguale, non me ne volete manco, ha impedito che la legge elettorale per le elezioni europee diventasse come quella per la camera dei votali, una macchina, è un po' così, c'è uno che vuole riprende. E quindi, presentai un emendamento da posti di diritto, presentai l'emendamento alla legge elettorale, capitano che non era la legge elettorale e prendono l'analisi per portarlo in commissione. E noi parlamentari europei, li votiamo ancora. Conoscete il partito, questo scrive Scuria, e ho votato Scuria, so chi ho votato. Alla Camera del Senato questo non succede. Voi votate il partito, poi automaticamente quelli che in quel partito stanno ai primi posti, vanno e potete anche riconoscere. Quindi c'è una legge elettorale che vuole anche Casini, che vuole anche Casini, che adesso non se lo ricordo, che è in politica, poi la memoria lunga, è un esercizio che prova pochi avvenzionati e pochi sostenitori. È una legge elettorale che sgancia il deputato dal territorio, degli elettori. I nominati. Allora, il nominato chi è? È uno che per essere stato inserito è perché si è compostato bene con chi o quello che comanda. E per poter tornare si deve comportare bene con chi, sempre con quello che comanda. E se è quello che comanda, caso mai, no ma pensa bene, è quello per essere diretto, ma sempre quello che si dice quello che comanda. E questo può andare a riguardo a destra e a sinistra, c'è il quarto perché il bello sceglie di dirlo. Non va più bene. Io sono delle preferenze, sono delle preferenze. La politica torna a instaurare un rapporto di fiducia e diretto. Io ho detto proprio da partire, ha la preferenza multica. Con la possibilità di fare anche le cosiddette contate, ma significa che se mai lo ha tolto, è un grande intellettuale che però non ha possibilità, non ha radicamento, ma può portare un po' di po' giù. Trova quello che riesce a trascinare, con l'obbligo di genere, per andare a possibilità alle donne di accedere alle cariche dettive. Perché vedete che è successo per esempio al fumo di Napoli, con la preferenza unica. Non è stata retta niente una donna. Tutti uomini. E così è caduta a caserla, una altra città comunque. Nessuna donna in Consiglio Comunale. È superbrata solo con la domina degli assessori. Alle elezioni europee abbiamo delle donne. Alle elezioni regionali abbiamo delle donne perché è stata un senso a preferenza multica con l'ombre di così il genere. Quindi c'è la possibilità di spaziarlo. Però dobbiamo riportare il politico sul territorio. L'eletto tra gli elettori. Perché è lì che c'è la possibilità di un'osmosi proficua, feconda. Quando tutto questo non si è più, si naridisce l'apportunità. Chi lo vede più? Il deputato. Chi lo vede più il senatore? Che cosa fa? Che cosa dice? Qual è l'attività? In che modo sta pensando il senatore? In che modo sta cercando di fare quelle cose che fermano più o meno al miglioramento del contesto nel quale viviamo. Allora, sono questi i temi sui quali noi dobbiamo studiare. Le primarie, va benissimo. Bello scopo, deve essere lì. Bello scopo le primarie. Tanto le vince. Bello scopo le che ci sia da parte nostra un sistema di selezione. Se avessimo fatto le primarie a proprio totale di quelli che sono i diritti politici dei cittadini. Allora, un partito dove ci si confronta? Un partito che sia partecipato. A me piacciono molto le tecnologie, questo è un gruppo di persone. Quindi, colloquio voi qualche vostra professore. A me piacciono dove i partiti fatti di persone. Dove se, dove ci sia il fondato, dove ci si possa in qualche modo guardare le migliori, dove si possa discutere. Insomma, il partito che abbia qualche reso, qualche fratto tradizionale che non basta mai, perché la partecipazione e il confronto sono state, e sono state anche le prime delle partite. Dobbiamo costruire questo popolo della libertà, ma dobbiamo fare più a misura del territorio, più a misura della politica. Nel corso, per esempio, negli ultimi tempi, ce ne sono dette tante, sui loro, sulla nostra quattro dirigenze, sul centro dei parlamentari, sono state delle tante cose, a volte sono delle tragilazioni, a volte sono ingiuste. Io so che noi abbiamo tante persone che sono frate, sono frate, giovani. Lui ha citato Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una donna del popolo della libertà, è il ministro della gioventù, è una ingamba perché viene da una selezione veloce all'interno di un mondo che non ho mai fatto sconti, diciamo, le donne, forse c'era anche un po' di prevenzione nei confronti della donna che facevano politica, vorrei dire un'espressione un po' colorita ma mi attengo dal palo, è una che ci sa fare ed è una donna del popolo della libertà e come legge ne sono altre, quindi noi dobbiamo guardare, e queste non dobbiamo guardare altre espressioni pure politico-parlamentari, in parlare la cia non stava così dire, è una cosa che è una cosa un po' più seria e in bene, quindi esistono tutte le prevenze del potere ben più, a te Luca e a voi che animate questo circolo e vado a poco. Poi qualche riferimento a questa generazione che è nata nel ricordo di questi due grandi metri giocati, ricordando fortunamente però che oggi questo è un tema controverso, non fatto per il possedino che sono parte di noi, ma il tema del rapporto tra magistratura e politica, ce ne siamo occupati anche l'anno scorso, è un tema che tu lo sai che mi intriga particolarmente per una mia ricerca ufficiale, nella quale sono stato neanche coinvolto in centro di autorità senza nessun elemento. Ho avuto la soddisfazione qualche della Camera dei Deputati che i gruppi dell'opposizione, persino che i gruppi dell'opposizione, per esempio, la settimana fa, la settimana fa, alla Camera dei Deputati, quando sono state esaminate alcune miei intercettazioni delle notte, io avevo comunicato integralmente sul mio profilo Facebook, dove avevo andato tutti su internet, insieme ai pubblicati dell'imposizione della serie, non ho nulla da nascondere, leggere, purtroppo, fatemi l'idea e fatemi di sapere, e molti mi hanno fatto sapere. Però ho avuto la soddisfazione della Camera dei Deputati che i gruppi dell'opposizione, persino l'onorevole Maurizio Turco del Partito Democratico, ha detto, io non capisco a che cosa possano servire delle personaggi in cui un esponente politico parla di politica. Lo ha detto mantine dell'ufficino, lo ha detto contro il futuro di l'attacco, lo ha detto a lei, vabbè, ma è un regalo di governo, non lo hanno detto ma hanno pensato quelli dell'Italia dei valori che si sono arrabbicati di dismesse. Perchè? Perdonate un attimo, un comunicazione di servizio veloce, c'è un'autista che si vede sopra la marcia a piedi, bisogna toglierlo, che sta nemicino. Scusate. Ecco, quindi, ho avuto la soddisfazione di vedere finalmente riconosciuta la nonna, ma la mia totale stranità. Rispetto al Ministro, che mi è costata molto in termini politici, io sono stato Ministro, sono stato due volte Presidente di un'importante conversione, nella passata legislatura ero insieme a Staiolo dei due, la passata dell'opposizione da avere una carica istituzionale, dopodiché sono stato partito. Perchè? Perchè c'era un politico. Sono liquidato in buon ordine, non ho fatto nessuna... nessuna dimostrancia, nessuna recriminazione. Capita in politica. La politica non è... non c'è la carriera di politica. c'è un verbo, una operazione. Non è una strada ferrata dove c'è un binario che riporta. È un posto simile alla montagna russa dove si sta vestituzionando molte cose a me, vedo i voti d'accia, ci sono delle cose all'improvviso. La politica è la vita. Non è una cosa che può essere prevedibile, immaginabile, programmabile da qui all'eternità. è fatta di roversi, di polture, fatta di audi e di pazzi. Quindi sono liquidato in buon ordine. Ho fatto politica, non mi sono arresto. Ho lavorato sul territorio. Sono diventato vice coordinatore di capi. Ho fatto un grande percorso, ma ho lavorato sul territorio, come ho sempre fatto, senza risparmiarmi. E ho ottenuto questa soddisfazione. Tutto questo mi è capitato perché c'è una magistratura. Non tutta, anche in voi che c'è. Quando si tratta del centro rete non guarda mai c'è nessuno. Vabbè, pari un'attività. E non è un passo vero, mettermi le mani a struttura, e inserirmi in maniera del tutto arbitraria, del tutto incertificabile, in un'attività. Ho parlato di me. Perché quando parlo di me ci metto un po' cosa. Sei più convincente di qualsiasi altra cosa. non so. Allora, dico questo perché, attenzione, qualcuno e forse mi hanno pagato un po' cosa. Erano dei grandi magistrati. Che in vita. non hanno ricevuto tutti questi voti che oggi diventano tributati. Qualcuno. Fu ostenzialissimo da tanti che oggi lo erano. Alla Camera, quando ci fu un momento di grande tensione su un tema come questo, e c'era l'Italia dei valori che si è citata, io chiamando un parlamentare, indicando con l'orevole del lupo Orlando Tasso, già sindaco dei posizionali di Palermo, poi fondatore della Reca, e oggi esponente l'Italia dei valori, io dicevo chiedete Orlando se Falcone. era un buon giudice. Chiedetelo a lui, perché lui accusò Falcone di far dormire l'inchiesta nei cassetti. Lui accusò Falcone di aver fatto il spingo attentato della Tauro per poterselo giocare in vista degli incarichi. Chiedete a lui che cosa disse quando Falcone incriminò per calunnia perché era un vendito che accusava Salvo Vina, cioè il referente di Andreo Fizzicina, che era il mandante dell'omicidio a Mazzarello. Lo incriminò perché era un vendito che diceva fuggie. Quanta differenza indicatoria tra il giudice Falcone e il pubblico ministero in groia che va alle manifestazioni di partito e che ha santificato quell'imprognone mappioso, figlio di Mazzarello, figlio di Mazzarello, che si chiama Cancino. E allora noi dobbiamo stare attenti quando si parla di queste cose, perché ci sono in giro molte imitazioni. Ci sono in giro molte un wibitonna che si mettono sulle pancarelle e ci sono un wibitonna. E noi di contrapassione ce ne intendiamo nelle nostre parti. Ci sono in giro molti pataccati, quelli che vanno cianciando dell'accordo salomatica e poi vai a vedere l'accordo salomatica che c'è stato riguardo un altro periodo, riguardo altri personaggi, riguardo altri governi, riguardo altri schieramenti e altri partiti, e riguardo personaggi come Mancì, come Cianti, come Oscar Luigi Scalpa, e beh, questi non mi sembrano che siano proprio in giro. E' pure lì che va fatto cadere il periodo del presunto accordo statunale. Ma su questo non trovate nessun sandoro, nessun travaglio che ne parla. Perché poi, poi c'è una generazione di punti, ma poi c'è una generazione che ci mangia su queste cose, che ci lucra e ricava fortuna e enormi spenso i vittoriati, intellettuali, politiche, cinematografiche, teatrali. E allora, noi dobbiamo essere consapevoli di che cosa significa questo tema e di quante, quali carte noi disponiamo per parlare. Questo è un tema che non divide, adesso io lo sono d'accordo. E' un tema che non deve dividerlo. Ah, non possiamo confermire che questo tema ci renda un taglio addosso come se fosse un manganello o una clave 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 di piscina. Perché non hanno legati il regolo del regolo. Loro io sono invece perché si faccia di questo tema un tema trasversale alla politica, diventi quella precondizione di cui vado a morire. non sia sempre meno bandiera, che sia sempre di più del suo patrimonio comune, che sia una precondizione che ispiri il politico, l'amministratore, quello il quale vuole fare politica, perché chi sia un chi amministra, chi accura per la cosa pubblica, lo deve fare solo nell'esclusivo interesse dei cittadini. Io sono un politico che vive solo degli volumenti parlamentari, che sono pure, che sono, ci pagano bene. Io ho avuto di recente una poverica con un mio in questo domaglio di partito che si chiama Fabio Granato, che ha seguito qui, che è un piccolo impostore, non troppo qui, che mi ha fatto a caso, ho detto io sfido Granato ad un confronto sulla legalità, o meglio lo sfido ad un confronto sulla coerenza a caso della legalità, perché potremmo parlare del cosiddetto fabilismo morale e vedere per esempio chi di noi ha parenti che ha avvistato immobile ai comuni, chi di noi ha direttamente o direttamente quote in società che prendono soldi pubblici, chi tra di noi in qualche modo lucra intorno alla politica. E poi gli ho detto, ho ragione che la legge deve essere voluto, perché ci manca il teatro. Noi abbiamo immunità, non, io ho fatto l'operazione del procedere perché ci inquinino a questo po', ma se ci vogliono arrestare, se ci vogliono per il visire, se vogliono ascoltare la nostra telefonata, lo devono chiedere alla camera. Questo è vero, c'è questa immunità, poi c'è un'altra immunità, che è quella che derivata che ci può fare amicizia tra i magistrati. Deriva da relazioni incescuose tra politica e magistratura. Molte volte chi dice l'impubblicata cosa, tra i politici, è solo perché si sente protestato da sicuro. Dall'avvicinato, da quando fanno i convenienti, da quando si incontrano a Cina, da quando decidono di emilirsi. Tutto questo in altri paesi non esiste, esiste solo in Italia. E allora la battaglia per la legalità in Italia è una grande battaglia. È un qualcosa che noi dobbiamo continuare, che succede già a fare, è un valore al quale non dobbiamo rinunciare, ma dobbiamo sforzarci, diventa una precognizione, qualcosa che si assume prima di entrare in politica, perché fa parte della normale condizione etica di chi vuole intraprendere un percorso in questa attività. E quando ho lunga, io sono certo che tu saprai ancora e anche dal di fuori del Consiglio Comunale, fare tutto quello che è il fatto stato del Consiglio Comunale. Io ricordo l'anno scorso con Stefano, parlando dell'inaugurazione di una biblioteca qui a Casoria, su qualcosa che fece questa, soprattutto con il sindaco, questa comunità umana, e questo è il percorso che dobbiamo intraprendere. E ricordati tutta che in politica non vince chi non cade mai, più questo è possibile, vince chi salva oltre. Grazie. Applausi 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 Applausi